E ora veniamo a parlarvi di Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani, quella che io ho ormai definito la strana coppia. Nel senso che non è mai stato un mistero alla sottoscritta la loro scelta non mi aveva convinta molto. Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani vanno a convivere a Riccione. Ma dopo quando sono tornati a uomini e donne li ho visti affiatatissimi. E se proprio devo dirvela tutta mi ha fatto anche molto piacere la loro non competitività. Nel senso che era un gioco e a mio modesto parere qualche coppia la presa peraltro ma non mi spingo oltre. Fatto sta che Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani convivono felicemente a casa di Claudio. E anche questa è stata una bella sorpresa. Nel senso che insomma è stato un impegno che hanno preso l'uno verso l'altro. Nelle foto li trovo sempre sorridenti, mai eccessivi, sereni. Insomma si vede davvero che si vogliono del gran bene. Che poi secondo me non è la cosa importante, ma è proprio la cosa più importante. E quindi insomma siamo arrivati a dirvi che Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani hanno festeggiato i loro tre mesi di storia d'amore insieme. Scrive Claudio D'Angelo a Ginevra Pisani. Tre mesi stretta a me. Fiero di quello che stiamo costruendo assieme. Chiocciola Ginevra trattino in basso Pisani. Le risponde un'emozionata Ginevra sempre da Instagram. Il motivo per cui, tu. Tu sei forza. Tu sei sicurezza. Tu sei energia. Tu sei cuore. Tanto cuore. Tu sei calore. Tu sei casa. Tu sei il mio buongiorno. Tu sei il mio sogno. Tu sei emozione. Tu sei vita. Tu sei scelta. Tu sei comprensione. Tu sei condivisione. Tu sei gioia. Tu sei sacrificio. Tu sei innocenza. Tu sei passione. Tu sei luce. Tu sei, tu sei l'amore mio. Auguri a te. A noi più tre chiocciola Claudio D'Angelo Real. Belli. 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 Ci piacciono assai. Ciao.